musica 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 no no se di pushare è un po' una cagata oh sono qua eh io li basso raga dovete venire però velocemente adesso no pietro a 0 1 a 0 Vita vieni manda vieni manda vieni 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 io mi scena vita vieni vieni Aspetta che fermo, salta, 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 bravo Eh, sì, va bene Vai Quanto ti fa? No Quanto ti fa? Quanto ti fa? Terra un altro Ok Che lato? Ronde su Io mi fermo gli zombie, raga, tirate su Tirate su Birkin Perché ho il personaggio baggato? Allora, guardatemi, guardatemi raga È tipo un fattuando Ok Dimmi, caro No, aspetta un attimo Un momento che c'è la gente Qua c'è un pumping launcher Ita Un altro pumping launcher Cos'è che c'hai, Pedro? Dimmi Ma che cazzo vuoi? Dimmi, Pedro Dove sei? Non vedo come è il tuo personaggio No, non vedo come è il tuo personaggio Mi sembra normalissimo, Pedro Dimmi, caro Ragazzi Sì Venite un po' qua, venite a vedere a questo Non lo sparare, Pedro Vedi a questo che sta dormendo vicino Chi? Non lo sparare, non lo sparare Di qua Cosa sta? Cosa fa questo? Aspetta che prova Pulizziamo Allora, tieni i colpi del points Tieni qua Mi date i colpi cecchino? No, c'è una me Dategli i colpi Ragazzi Uno che si porta via il pumping launcher Eita Io sto cercando di parlare seriamente Ma io non posso Ragazzi Non posso C'è gente Ti porti uno shish C'è gente là Andiamo a prendere la gente là Eccoli Oh c'è qua uno col parco Mi mancato per un pelo Eh sì Chi è Matrix? Figa Ha saltato le zucche E poi Oh c'è lo zombie ora A terra uno Raga aiuto Raga aiuto Raga aiuto Eh ma pure qua C'ho un po' più Raga A terra due A terra tre Eh a terra quattro Killati due Manca l'ultimo Manca l'ultimo Vi ho chiesto aiuto gentilmente Chi va su Killato A posto L'ho fatto uno zombie Mamma mia che bestia Lo ziu eh E' un capito GG No la safe porca puttana Attenzione che andiamo Ma scusa Ma scusa fatti una scale E ora Giusto Ho dovuto lasciare giù I shieldini Eh sì dove vai Al contrario Ma da staccato Ma dai a l'interno della sei Ma abbatto via Ah eh eh Ma dai a l'interno della sei Ma abbatto via Ok Attenzione Grazie Ciao giovo pro Mincchia raga sette kill gg Mamma mia Ma c'è il tuo record? 11 al record Ok C'è gente a sinistra C'è tanta gente C'è uno Non posso preoccuparmi della gente Cerco di sistemarmi C'è gente sotto di voi Eita Perché cazzo Raga aiuto No cazzo Adesso mi brichino Arrivo Ok GG Minchia che partita ragazzi che stiamo facendo Vai aiutare Birk vai aiutare Mi bendo e arrivo Eccomi Sto arrivando Qua c'è un altro da me Dov'è? Sto qui Arrivo Buono 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 Bravi ragazzi C'è altra gente credo comunque Sì Sì Ma doc è partito Eh c'è sopra gente credo Tu mettiti a posto La prendo la prendo io No no c'è una sciaga Aspetta Abbiamo 26 secondi pro raga E poi dobbiamo Figa raga non ce la facciamo Uno prepara una scala Uno prepara una scala Sennò siamo rovinati raga E' perso Andiamo 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 Cristo ho lasciato giù il pompa Non ho parole Oh merda ho lasciato giù il pompa Parca puttana il pompa blu ho lasciato giù Non ci credo Tranquillo che se te lo do io No vai tra Gioco da dietro gioco da dietro Non è un problema Parca puttana ho lasciato il pompa Bravi che avete fatto la scala raga GG Ma vai vai aiutano questo Ti bisogna di me Dopo dopo Oh ita cosa sta roba GG Andiamo 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 Ragazzi c'è gente qua alle rune C'è un loot incredibile qua Ma allucinante raga Ma questo? C'è uno zombie sospeso nel vuoto Uno 105 ad uno Arrivo su Chi è che ti è diventato sponsor? Bello quella Sì sì ragazzi ho bisogno Arrivo A terra uno Lassano perdere lasso perdere andiamo dagli altri Adesso ti tiro su ita Adesso Eh ma ci sono i mostri Qualcun'ora si ita gentilmente Minchia Pedro è morto Cazzo No, non possiamo rimanere vai birkin tienimi un attimo tienimelo un attimo 4 3 Ita tirati lì al volo C'è ancora gente Sì Dov'è il barret Si un momento momento c'è il barretto leggendario ragazzi g Scindone che hai visto o due medichi tio Vieni qua Andiamo c'è la raga Quali prendo un altro scindone aspetta L'altro barretto No, non possiamo non possiamo non possiamo portare la safe prendono il medikit Io ragazzi l'ho messo benissimo Si si pure io Adesso concentriamoci un attimo attenzione raga Ci avete dietro un sacco di zombie Non lo so Dove? Ok non l'avevo visto Io c'ho lanciarazzi perché servo qui Nooo Vieni 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 non pensavo Eh non ci voglio pensare voglio carmi il medikit Oh merda la safe Andiamo Da dietro la casa C'è un altro scindone Devo prenderlo Andiamo da ita Andiamo da ita Andiamo da ita Io ci sono ita Sono dietro la casa Spamiamo spamiamo il rocket Spamiamo il rocket Ah ma qua sta solo uno eh Ah ma quasi È un attimo tipo qua Ok È avviso parlando dove ha visto no come stiamo a capire mi stava sconando di lancia granate dall'altra una partita spettacolare grazie bella bella 8 kg si è fatta vinci per noi vinci vinci un po più alto ma figa in due in due uno contro uno più uno contro uno tranquillo e andiamo e andiamo con 9 kill questo la mandiamo sul canale grazie